Ha ormai que... Ha ormai que... Il 28 aprile del 1960 aprile del 19... Del 19... Si vota per le vadovis e le politiche. E il filo del... Il vero problema... È che lo sviluppo economico è stato sinora... Scopato... Essenzialmente... Dalla dura legge del FI... Il ritmo del lavoro nelle uffici è diventato così intenso... Che esaurisce un uomo... Nel corso di un uomo di non molti anni... Su... Il vero... È la nostra meta... Noi non lo nascondiamo... Vogliamo una società nuova... Fondata su... Sos... 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 Come per le api... Dell'amaro verso... Sos... Col quale Virgil... Accusas... Accusas... Approfittatori dell'opera sua... Sos... Ove siano applicati... Di un luminoso avvenire... Di progresso... Sesso... Di libertà... Valutà... Di felicità... Adicine... Felicità... Assassin... Capazone... Praticamente...